Cambia volto la Rivera Nord di Pescara, 4 mesi di lavoro, 103.000 euro il costo dell'opera per 280 metri di Pineta che ha cambiato davvero il volto in meglio in questa zona di Pescara, proprio alla vigilia della stagione estiva. Naturalmente siamo contenti di questo perché vuol dire che Pescara sorride all'estate che avanza e vuole essere come sempre accogliente, prosperosa e suscitare possibilmente un sorriso da parte della cittadinanza. Una cosa però ci tengo a dirla, naturalmente questa è una cosa bellissima che non ci ricorda come era Pescara perché un tempo la Pineta degradava fino al mare. Dobbiamo volerli bene, dobbiamo volerli bene significa non considerare lo spazio pubblico come una discarica. Quindi qui c'è tanta gente, vogliamo che sia frequentato, vogliamo che sia fattore attrattivo, però chiediamo a tutti rispetto e un aiuto per questo perché non è sempre Attiva che deve pulire, Attiva vuole fare il suo lavoro, però c'è anche la necessaria considerazione appunto che quelle pessime abitudini che non si fanno nel giardino di casa, quel tipo di buttare bottiglie e pacchetti di sigarette eccetera eccetera, ecco che non bisogna farlo qui in quest'area. Potrà sembrare una lezione della nonna, invece educazione civica è una materia di cui penso ci sia un gran bisogno.